Taranto è una città bella e maledetta, sì proprio così, bella perché madre natura ha dato delle risorse fantastiche al nostro territorio, invidiate in tutto il mondo, maledetta perché le varie amministrazioni l'hanno distrutta, l'hanno governata nel modo peggiore possibile, anzi nei modi peggiori possibili e per questo corro da solo, da solo rispetto ai partiti, insieme ai cittadini, accanto ai cittadini per mandare a casa questa classe politica di incapaci, di tutti colori, centrodestra, centrosinistra, Movimento 5 Stelle. Voglio farvi vedere una realtà bellissima che sicuramente tutti conoscete, la struttura dell'ex Gambero qui a pochi metri dal ponte di Pietra, una struttura che è di proprietà comunale, che è stata completamente abbandonata, murata e ora meta di vandali, uno scempio assoluto. Da sindaco questa struttura verrà valorizzata, questa struttura potrebbe diventare un museo del mare, un punto di riferimento per il turismo, si potrebbero creare, installare delle attività ricettive, insomma ci possono essere mille destinazioni, le possiamo definire insieme, le possiamo decidere insieme, ma non certamente tenere questo scempio, né tantomeno altre idee tipo darla per esempio alla Capitaneria di Porto, massimo rispetto per la Capitaneria di Porto, però permettete, un gioiello del genere lo dobbiamo valorizzare ai fini turistici, in una zona bellissima. Pensate, i turisti che vengono dal nord non credono ai propri occhi, dicono ma è possibile che avete un ponte fantastico, suggestivo, una marineria incantevole, uno specchio d'acqua che invita alla vita, al turismo, alla crescita del territorio, a far crescere i nostri figli in questa terra e poi avete questo scempio e non sapete fare altro che tenerlo abbandonato, ecco questa immagine mi offende, per questo voglio cambiare Taranto insieme a voi, contro i partiti, accanto al cittadino, c'è una Taranto migliore, la Taranto del mare, c'è una struttura, quella dell'ex gambero che faremo rifiorire insieme.